Spacco della macchina, veloce dall'esterno, un taxi lungo che però viene contenuto da Pride of West, Primadonna, Pant. Numero 3, Pride of West, squalificato. Pride of West, così, sbaglia anche, Primadonna. Numero 4, Primadonna, Pant, squalificato. Dopo 200 metri di gara, i due che erano fatti di più svegli si sono eliminati. Palmera Gym ne ha approfittato per andare al comando, all'esterno insiste tra tassi lungo. C'era sotto invece Principe Ovi, che impedisce tra tassi lungo di trovare posto dopo 438, all'esterno c'è anche Penedo Potrio, poi in corda Pense S in terza posizione, 45 secchi, i primi 600. Palmera Gym leader dopo 700 metri di gara, la seconda posizione per Principe Ovi, poi tra tassi lungo all'esterno, la terza corsia per Penedo Potrio, che provvedisce a un giro della conclusione, si trascina Prometeo, intanto 1-1-3 il passaggio agli 800 e insiste a largo Penedo Potrio, va sul battistrada Palmera Gym dopo un chilometro di 1-16-6, a contatto rimane Principe Ovi, la terza ruota anche di Prometeo, all'accordo in terza posizione Pense S, 450 alla conclusione con Palmera Gym e Penedo Potrio appaiati a 400 dalla conclusione, parziali in 15-3, ci fa luce intanto in terza ruota Pico di Ghan, la raglia completamente vera piegata, in vantaggio si presenta Palmera Gym, seguita sempre da Principe Ovi, poi Pense S, ancora Penedo Potrio, ultimi metri di errore di Pense S, passa all'interno, Principe Ovi che piega così, Palmera Gym al terzo.